Musica Amici di Cittadino, buongiorno, questa mattina siamo ad Ariano Erpino, nel centro di Ariano Erpino, centro pulsante della città, con una mela. E' un motivo particolare perché vi gueve con una mela questa mattina, perché oggi è la giornata nazionale dell'Aism, associazione italiana contro la sclerosi multipla, questa mattina abbiamo un doppio banco per quanto riguarda i volontari, una cosa importante, compriamo le mele, la sclerosi multipla pian piano riusciremo a combatterla, stiamo combattendo già ma riusciremo a sconvincerla. Ne parliamo un po' più diffusamente con il presidente dell'Aism qui da Ariano Erpino, l'amico Santoro Antonio. Allora Antonio ancora una volta è in prima linea contro l'Aism, per l'Aism. Sì, anche quest'anno dopo sei anni siamo qui a vendere le mele dell'Aism per la lotta alla sclerosi multipla. Senti, io ho detto nella mia introduzione che piano piano forse riusciremo nel tempo a sconfiggere questa terribile malattia. Beh, spero di sì. Pensa che da Ariano ci sono circa 53 casi di sclerosi multipla. Si sta combattendo tanto per trovare una cura a questa malattia. Ogni anno, grazie alla raccolta fondi, ci sono nuovi farmaci che aiutano molto le persone affette da questa patologia. Quindi vogliamo ricordare una cosa importante, tra l'altro che la sclerosi multipla colpisce generalmente i giovani. Sì, la media scende sempre di più. Basta pensare che gli ultimi casi, si parlano di ragazzini di 14 anni, è una malattia che colpisce principalmente i giovani. Senti, facciamo uno spot per vendere queste mele, questo sacchetto di mele che porti fortuna a tutti noi. Fai uno spot alla televisione adesso. Beh, allora, una mela al giorno leva la sclerosi multipla di torno. Ringraziamo gli amici e tutti chiaramente i volontari dell'Aism che fanno un lavoro incredibile. Una volta tanto Big Wave parla di cose edificanti. Quindi, signori e signori, voi comprate le mele. Ciao.